C'era anche l'imprenditore marsicano Antonio Di Murro interessato all'acquisto dello stabilimento ATR di Colonnella che produce fibre in carbonio, stamani all'assessorato regionale al lavoro a Pescara. Sul tappeto la complicata situazione finanziaria delle aziende e dei 150 lavoratori. I sindacati chiedono chiarezza ai tempi e gli obiettivi alla regione Abruzzo di farsi garante ma si dicono soddisfatti per il fatto che l'imprenditore interessato ci ha messo la faccia. Ha illustrato in parte il suo piano e ha affermato di voler pagare gli stipendi. Ora la palla passa, la curatela fallimentare che speriamo faccia in fretta hanno aggiunto le organizzazioni sindacali le quali annunciano il prossimo incontro il 22 luglio con si spera la nuova proprietà proprio all'ATR di Colonnella. Al tavolo odierno oltre alla RSU i rappresentati della FIM Cisra, Marco Boccanere, della FIM Cigelle, Mirco D'Ignazio e della Will, con loro l'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti e appunto l'imprenditore Antonio Di Murro. Ricordiamo quanti lavoratori ci sono e cosa produce l'ATR? L'ATR produce fibra di carbonio, è legata a marchi come Lamborghini, Porsche, Ferrari e i dipendenti attualmente sono 150. Ricordiamo erano arrivati a 200 e c'è stato un grosso esodo purtroppo per la mancanza degli stipendi e quindi i lavoratori si sono licenziati per giusta causa. Non possiamo più aspettare perché più maestranze valide vanno via dall'ATR e peggio è per tutti. Quindi mantenere l'occupazione e nell'imminente saldare gli stipendi arretrati perché quella è la prima priorità che hanno i lavoratori dell'ATR. Ci aspettiamo sì come si diceva un po' di concretezza, ci aspettiamo che ci vengano date tutte le rassicurazioni che chiediamo, ci aspettiamo che si risolva finalmente una situazione che non può più andare avanti così. Sì la situazione è complicata diciamo potremmo dire anche da anni, da settembre scorso c'è il problema dei ritardi con gli stipendi che sono arrivati addirittura a tre. Se non si investe su aziende ad alta innovazione tecnologica quale futuro può esserci per il nostro abuso? Per questo chiediamo che la regione ci dia una mano a vigilare. Assessori e dipendenti hanno chiesto alla regione di farsi garante per quanto riguarda il futuro dell'ATR. L'imprenditore di Murro è presente? La sua posizione è quella di un imprenditore che è interessato a investire, a entrare in questo settore salvaguardando tutto quello che c'è da salvaguardare. Vediamo un attimino quelli che sono i passaggi, purtroppo ci si trova in una situazione in cui c'è una curatela, c'è un'azione che comunque deve essere seguita con tutte le procedure di legge.